Attenzione, attenzione, attenzione. Il quartiere generale delle Forze Armate Comuni. Buonasera, vi leggo la composizione del governo. Ministri senza portafoglio. Niente. Portafoglio? No. Non c'è? No. Mi dispiace. L'onorevole Renato Brunetta. Quel pezzo di giocatore alto, bassino, con naso. L'onorevole Mara Carfagna. Quel viso non mi è nuovo. L'onorevole Maria Stella Gelmini. C'hanno una faccia tosta. I ministri con portafoglio. Io c'ho il portafoglio, voi prendi. Ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale, onorevole Luigi Di Maio. E insiste, e insiste. Ministro della difesa, onorevole Lorenzo Guerini. Ma dico io la vogliamo fare questa guerra, non la vogliamo fare. Ministro dello sviluppo economico, l'onorevole Giancarlo Giorgetti. Questo significa cambiavetti. Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, senatore Stefano Pattuanelli. Ah, che vita, guarda la zanzeria. Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Andrea Orlando. Noi abbiamo l'appalto nazionale per la fornitura dei piccioni su tutte le piazze d'Italia. Ministro della cultura, onorevole Dario Franceschini. In Italia si fa tutto per soffocare l'arte. Ministro della salute, onorevole Roberto Speranza. Vuol dire che è peggio di così? Non si può andare. Grazie, buonasera.